Il profeta Osea ci narra di un tempo di prova, di difficoltà per il popolo di Israele, ma lo scorgiamo sempre nei solchi della scrittura, momenti in cui per il suo peccato si trova a vivere lontano dal suo Signore, e questo paradossalmente è un tempo di grazia. C'è l'invito di Osea, è tempo di cercare il Signore. Attenzione, non è importante avere sempre il Signore con noi, o meglio, Lui è sempre con noi, ma tante volte il rapporto stabile col Signore diventa un rapporto morto, un rapporto senza vita, senza fecondità. Magari anche noi nella nostra vita ci troviamo sempre a cercare il Signore, ma in realtà la verità più profonda è che ognuno di noi, sempre nella sua storia, nei paradossi della sua vita, ha sempre bisogno di cercare il Signore, di comprenderlo la propria storia, e per questo è importante anche ciò che Gesù fa nel Vangelo, quello di chiamare i dodici, di inviarli. Tutti abbiamo bisogno di uomini che ci mostrano questo Dio, che prima ancora di essere cercato è Lui che ci cerca. Chi è inviato è inviato in fondo a dare questa straordinaria notizia, il Regno di Dio è vicino, Lui il Signore è vicino a te, ti cerca, vuole fare una storia grandiosa con te, ti vuole fare il dono della redenzione. Prima ancora che noi lo cerchiamo, Lui da sempre ci cerca. Buon amissio.